L'impresa sicura è andato molto bene, è un'iniziativa che abbiamo voluto già durante la scorsa legislatura e siamo riusciti a concretizzare adesso dopo un bel percorso di costruzione, un bel percorso di selezione, valutazione dei partecipanti, una ricca dotazione dei partecipanti e 13 felici vincitori che hanno ricevuto un premio in denaro che premia soprattutto il loro impegno, la loro attenzione, la loro dedizione, la qualità, la sicurezza nei ambienti di lavoro, la salute dei propri lavoratori e il benessere generale nel luogo di lavoro. Il futuro sarà un premio biennale con cadenza ogni due anni che cercherà di raccogliere più adesioni possibili e allargare anche magari alla media impresa nostra locale, alla manifattura, quella che chiaramente ha un impegno maggiore nell'ambito della sicurezza e un'ampiezza superiore anche nell'ambito dei rischi aziendali. Vogliamo cercare di costruire un percorso che voglia premiare i migliori, le eccellenze e fare quindi anche da scuola per gli altri. Un obiettivo è quello di diffondere più possibile la cultura della sicurezza nell'ambito dei nostri processi produttivi. Il futuro quindi sarà quello di controlli, sicuramente repressione di chi non fa il proprio dovere ma anche affiancamento e cultura della prevenzione accompagnata dalla provincia autonoma di Trento.